buonasera buonasera allora come avete potuto vedere ieri eravamo in trasferta quindi siamo andati a trovare analisa quindi ne approfitto per ringraziare sia lisa che analisa ci hanno accolto benissimo siamo stati veramente da dio sembrava che ci conoscessimo da da una vita anche di persona quindi veramente il tempo è volato siamo arrivati siamo arrivati prima di pranzo cioè veramente siamo andati via che era notte e volata veramente quindi ne approfitto per ringraziarle e per la bellissima giornata veramente e niente quindi bambole ciance vi faccio vedere allora cominciamo con io sono andata a ritirare il mio il mio cupcake per lo screenshot quindi mi raccomando è tutti gli screenshot e poi poi si vedrà quindi stavolta avete la possibilità di vincere anche voi quindi ve lo mostro non so dove ho messo le perle da 6 mm ma c'erano anche le perle da 6 mm quindi abbiamo gem duo super duo le mettiamo dentro poi abbiamo questi chaton preziosa bellissime perni guardate che meraviglia bellissime rivoli e crystal abili bellissimi e poi per la 4 mm sempre una bondelli yellow bellissima questa scatola bellissima poi poi abbiamo annunciato le due pochette quindi la novità sul sito di analisa e comincio a mostrarvi la prima pochette che contiene 9 colori quindi destra e sinistra di zori duo e al prezzo di 24 euro 99 cioè è veramente un prezzo bomba nel senso che provate a fare i conti è veramente una roba analisa si è superata stavolta pensavamo fosse impazzita quindi primo colore questo allora adesso ovviamente io non ho le bustine perché le abbiamo richiede il negozio voi avrete tutto con le bustine con la vostra scatolina con la pochette tutta con con tutta bella confezionata quindi questo credo sia il jade verso le destra e sinistra poi abbiamo questo nei colori pastel cioè non potete capire quanto sono belli guardate guardate che bello bellissimo quindi questo è il pastel green questo cioè ragazzi io ho un debole per il giallo però c'è tanta tanta roba cioè per dirlo silvia che non ama il giallo e invece silvia ha detto che bello quindi bellissimo pastigliello poi abbiamo il pastel coral coral red bellissimo non amo rosso ma troppo bello bello ma i colori pastel sono una sono una garanzia quindi questo qui è il è il pastel petrol poi abbiamo il pastel blue azzurro bellissimo poi abbiamo il pastel pink vediamo se trovo un modo ok che la luce qua è quella che è quindi bisogna accontentarsi questo invece è bellissimo è l'iris blu cioè è veramente da dei riflessi è una bomba quando sembra più scuro di quello che è ma vi chiaro antesco questo qua è bellissimo e poi ultimo ma non ultimo cioè noi siamo stati veramente appena l'abbiamo visto siamo impazziti impazzite tutte questo è bellissimo cioè bomba bellissimo al momento non ho i nomi io ma poi voi avrete tutto quindi questo qui è una pochette ha il costo di 24 euro e 90 cioè 99 scusate ma è veramente vi assicuro che per tutto quello che avete a destra e sinistra sono 9 colori quindi 99 18 cioè è veramente è da non perdere seconda pochette parto a mostrarvela quindi abbiamo vexolo sempre pastel vexolo pastegliello bellissimo se non sapete cosa fare con le vexolo sul gruppo dell'esea trovate un post con anzi se ne avete voi e volete suggerire dei post dei dei tutorial potete potete farlo e potete aggiungerlo così in caso chi non sapesse cosa farne potrebbe ma ce ne sono tantissime veramente si possono usare in progetti super wow pastel pink scusate questo è il pastel red coral red bellissimo quindi abbiamo 5 colori di vexolo più 4 colori di di uibe duo guardate quanto è bello questo questa è proprio una mega novità da analisa bellissimo cioè non voleva lasciarcelo ieri analisa l'abbiamo convinta noi a mettere nel kit quindi ringraziateci questo colore qua bellissimo questo cosa non è cosa non è guardate bellissimo ultimo questo veramente 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 bello questo invece quindi abbiamo 5 colori di vexolo più 4 colori di uibe duo al costo di 14,99 euro che è veramente anche qua prezzo bomba cioè solo analisa riesce a a fare queste cose e quindi quindi direi di approfittarne e saranno credo online da stasera quindi potrete poi prenotarli e comprarli e niente e niente comunque rimanete sintonizzati perché poi vi farò un altro video in cui mostrerò cosa ha preso ieri ci siamo guardate attorno siamo stati in magazzino ad analisa tanto tempo quindi abbiamo preso delle chicchette anche noi che poi vi mostreremo quindi per il momento vi saluto vi auguro una buona serata e vi do appuntamento al prossimo video ciao 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 ciao